Golose, facili da fare e pronte in pochi minuti. Melanzane alla pizzaiola, se non le avete provate dovete subito rimediare. È un piatto che piace a tutti, anche ai più piccoli e soprattutto mette d'accordo anche ai vegetariani. Infatti gli unici ingredienti che occorrono sono melanzane, passata di pomodoro e mozzarella. Il risultato però sarà davvero squisito. La bontà di questo piatto richiama un po' quella della parmigiana di melanzane. In questo caso però non dovrete accendere il forno. Scegliete le melanzane che preferite, lunghe o tonde, ne serviranno circa 800 grammi, e poi 400 grammi di passata, 120 grammi di mozzarella per pizza, un cucchiaio di capperi, uno spicchio di aglio, origano e basilico per dare tanto profumo e ovviamente sale, pepe e olio di oliva. Lavate le melanzane, spuntatele e ricavate delle fette di circa un centimetro di spessore. Scaldate una piastra e cuocete le fette su entrambi i lati, dovranno risultare morbide. In una padella scaldate invece un po' di olio di oliva, aggiungete l'aglio e fate insaporire, unite anche la passata di pomodoro e aggiustate con pochissimo sale, visto che dopo ne aggiungerete altro sulle melanzane. Mettete anche un pizzico di origano e i capperi dissalati. La passata dovrà cuocere 5 minuti, quindi senza restringersi troppo e adesso possiamo aggiungere il primo strato di melanzane. Adagiamo le fettine una accanto all'altra e poi le giriamo di modo che possano essere tutte coperte di salsa. Aggiustiamo con un pizzico di sale e di pepe nero e ripetiamo la stessa cosa con le altre fette di melanzane. Quindi le mettiamo sul primo strato, le rigiriamo un po' nella salsa sistemandole per formare appunto un secondo e ultimo strato che completiamo con un altro pizzico di sale e pepe. Adesso mettiamo la fiamma al minimo in modo da non bruciare la nostra pietanza. Aggiungiamo anche il coperchio e continuiamo la cottura per 5 minuti. Trascorso questo tempo possiamo aggiungere la mozzarella tagliata a dadini e magari un po' di origano. Rimettiamo il coperchio per permettere alla mozzarella di sciogliersi occorreranno giusto 2 minuti e a questo punto possiamo toglierlo per asciugare l'eventuale acqua prodotta in cottura. Ecco che il piatto è pronto. Goloso, con melanzane molto morbide, avvolte da questo sugo semplice e profumato, vi suggerisco di mangiarle con tanto pane casereccio fresco. Fatemi sapere se l'idea vi piace. Io vi aspetto anche sui nostri siti www.cibodoc.it e www.vivomangiando.it con tante altre ricette.